Bene, eccoci arrivati nella seconda parte di Mortal Kombat con la grafica, ma questa volta vediamo se finisce sta seconda parte, perché se ne sono 70. Ripartiamo. Tremor, seconda fatality di Smoke. Salute Zero. Cat Troat, seconda fatality di Sonya Blade. Combattimento silenzioso. Mouth Full, seconda fatality di Sindel. Speciali disattivati. Super Recupero. Have a Blast, seconda fatality di Curtis Stryker. Throw Incoraggiate. Brain Freeze, che in inglese significa cervello congelato. Seconda fatality di Cyber Sub-Zero. Modalità Torneo. Schizzo Fatality di Reptile. Nether Gate, seconda fatality di Scorpion. Schizzo Fatality di Scorpion. Combattimento zombie. Ascension, seconda fatality di Nightwolf. Combattimento senza braccia. The Scale Crove, che in inglese significa lo spaventapasseri. Seconda fatality di Sector. Breaker disattivati. Land Aend, seconda fatality di Shiva. Throw disattivate. Razor Edge, seconda fatality di Kung Lao. Combattimento invisibile. Weight Loss, seconda fatality di Reptile. Combattimento vampiro. Doppio scatto. Spinal Smash. Se onda fatality di Sub-Zero. Schizzo Fatality di Nightwolf. Ok ragazzi, Gabriel Sta finito con voi. Ha finito con Mortal Kombat e ha finito con le immagini. Ma vi ricorderete per sempre di tutto quello che vi ha fatto vedere finora. Ma vi ricorderete anche quando vi ha fatto vedere bozzetti personaggi, grafia ambientale, musia e grafica. Ok, arrivederci a tutti. E continuate a seguirmi, mi raccomando. Io vi devo salutare. Mortal Kombat è lì che vi aspetta. feet다. Ciao.